Che obiettivi ci sono dietro la manifestazione Bari Bianca? Cosa vuole ottenere? Bari Bianca c'è insieme all'obiettivo principale di voler farlo trovare i cittadini di Baresa all'interno di uno spazio pubblico urbano per realizzarsene per una sera. È un evento che sicuramente nasce sulla scorta di eventi precedenti dell'Adenéa Blanc che quest'anno ha festeggiato il suo 40esimo anniversario a Parigi. È un evento molto conviviale, è un evento che ha un regolamento alla sua base, convivialità, senso civico e rispetto per il prossimo. Credi che abbia avuto successo questo evento? Io da quello che posso vedere, suppongo che voi abbiate fatto delle fotografie, l'evento ha avuto grande successo, siamo solo all'inizio, fra 30 minuti ci sediamo tutti a tavola, siamo arrivati fino a Via Melo, quindi suppongo saremo intorno agli ottonini almeno in questo momento. Vedo che c'è gente che continua ad arrivare con i tavoli.